NETCIO 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 Oh, quindi non è un tizio in costume? Chi se ne importa? Il bojambu è lo smemurieti! Eh... Oh, quindi vuol dire che la sua nebbia ci farà... Eh? Oh? Oh... Oh, la mia testa! Ma dove mi trovo? E chi sono? Magari il telefono mi aiuterà a ricordare... Au! Cosa? Forte! Una custodia da paura! Mi sa che sono un tizio super tosto! Niente contatti! Non è una cosa tosta! Oppure sono un tipo tosto e solitario! Che altro mi piace? Ok, concentrati! Ci sarà un modo per scoprire chi sei! Questo potrà aiutarmi! Oh, guarda i capelli! Eh? Mi ha scritto qualcuno! Cavolo, ho proprio una custodia banale! Ben, dove sei? Puoi prendere il banjo del nonno? Ben! Mi chiamo Ben! E chi mi ha scritto si chiama Gwen! I nomi fanno rima! Magari siamo parenti! Vediamo cos'altro posso imparare su me stesso! Oh, ho un diario! Sei una bomba, Kevin! Bene, che altro abbiamo? Camicia da duro, presa! Cose da ribelle! Oh, quindi sono un ribelle! Beh, se è questo che sono, è meglio che inizio a comportarmi come tale! La gente pensa che il banjo sia uno strumentino, ma quando lo prendo io... Suono blu-grass e saltano tutti come grilli! Blu-grass? Di che stai parlando, nonno Max? Parlo di uno stile musicale, Gwen! Appena Ben mi porta il banjo, ti faccio sentire... Ecco il tuo banjo! Dacci dentro! Allora che cosa suoniamo? Cosa ci fai qui? Ho portato lo strumento al nonno! Sono un eroe e gli eroi sono buoni! E da quanto ho letto sul diario, c'è un tipo di nome Kevin che fa sempre cose cattive! Se dovessi incontrarlo, lo fermerei di sicuro! Ciao, a dopo! Dovremmo preoccuparci! Beh, niente incendi, quindi per ora siamo a posto! Allora suono! Piano, ci cacceranno fuori! Rimediare un casco, fatto! Rubare una motocicletta da ribelle, fatto! Essere un duro... Fatto! Quindi aiuto le persone con gli alieni... Molto strano! Ti riporto a casa, ragazza! Perfetto! Ehi, che stai facendo alle nostre moto? Cavoli, qui fare il ribelle è fin troppo facile! Deve esserci qualcosina di più impegnativo! Ok, vediamo il prossimo punto della lista! Catturare il bojambu? Chiedere un riscatto e venderlo a qualcuno? Ma questo piano non ha alcun senso! Beh, se l'ho scritto io vuol dire che devo farlo! Devo fare una foto al bojambu per dimostrare a Gwen che è finto! Perché ho scritto questa roba? Beh, fare foto non è una cosa brutta! No, cavoli! Come si costruisce un'esca con la spazzatura? Ehi, è tua quella robaccia? Raccoglila! E dimmi come ti chiami! Il mio nome è Kevin! Domani controlla il giornale! Scoprirai che avrò catturato il bojambu! Kevin? Sapevo che ti avrei incontrato! La passerai liscia! Wow! E questo ragazzo sarebbe l'eroe di turno? Che tipo noioso! Addio! È l'ora dell'eroe! Vattene via Ben Tennyson! È ora di sfruttare il coso che ho al polso! È proprio una buona idea! Sì! Oh! Serve a diventare un alieno! Oh! Vado a fuoco! No! Io sono il fuoco! Andiamo! Andiamo! Funziona! Non muoverti da lì, Tennyson! Mi è appena venuta in mente un'idea! Torna indietro! Non la farai mai franca, Kevin! Oh! Questo era l'intro di un pezzo che... Cos'è questo odore? Ok! Adesso sì che c'è un incendio! Nanno, fa allontanare le persone! Vado! Io cerco l'acqua! Scusatemi! Ascoltate! Ho una cosa da dirvi! La foresta ha preso fuoco! Dovete evacuare la zona! Uh-huh! La foresta ha preso fuoco! Dovete evacuare la zona! È il mio pezzo blu-grass pre- La foresta ha preso fuoco lì, Alla prossima! La foresta! Giordina! Il nostro classroom in fieldSP,